Per cinque giorni la Casa della Salute di Vallefoglia aprirà le proprie porte per permettere ai bambini, nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, di sottoporsi alla vaccinazione. Per potersi recare alla struttura in via Piola Torre a Montecchio, è però necessario prenotarsi prima sul portale della Regione Marche, che è già visibile dal 15 dicembre. Mercoledì 22 e 29 dicembre e mercoledì 12, 19 e 26 gennaio. Sono queste le cinque date in programma con orario dalle 15 alle 18 previste dall'Asur e il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, ne ha sottolineato l'importanza. Vaccinare i bambini nella Casa della Salute è il luogo delle famiglie, diciamo da 5 a 11 anni, mi pare dai prossimi giorni, dal 22 mi pare di dicembre, è quanto mai importante perché prima riusciamo a fare tutti i vaccini, prima ci liberiamo e ritorniamo in una situazione di normalità perché diversamente è chiaro che siamo costretti a viaggiare con la mascherina, ad avere ricoveri ospedalieri e poi anche se è molto delicata la questione dei bambini, però bisogna ascoltare i pediatri, i medici di medicina generale, la scienza perché se noi riusciamo a liberarci quanto prima e ritornare a lavorare in una città industriale come questa diciamo come se non ci fosse più il vaccino perché abbiamo sconfitto il Covid, sarebbe importante. Vaccinare i bambini e vaccinare tutti quelli che ancora magari per un po' di preoccupazione, per paura, non avevano fatto i vaccini è fondamentale per riuscire bene da questa vicenda del Covid che ha provato anche sul piano psicologico le persone, due anni dentro casa e lavorare con difficoltà e trattare i bambini sempre con preoccupazione perché con la paura che si ammalassero diciamo che va un grande grazie a tutti quelli che sono adoperati per rivivacizzare la casa salute che deve appunto tenere la comunità e i cittadini in salute.